Un saluto a tutti, su esemoso in musei, una ida di mille chimichentos abitanti, seppruso manco. Saria aveva già abitata in sepoca nuragesa, punica e romana. In sedate di meso, fai appalto di esa curatoria di su Cigerri, di Sigerro, in su Gioigao di Castello. La formazione attuale di questa ida è venuta attribuita a questa presenza di sol Gesuita in su secolo XVII. A questo si deve pensare la fondazione di questa Grecia dedicata a Santo Ignazio dell'Oiola e il suo convento di questa faccia di questa Grecia. I musei in anticipo di questa villa di Prato è che la cosa curiosa è che il nome dei musei legge il suo contrario è Gesù. Noi abbiamo, se questo è attribuito a questa presenza di questa compagnia di Gesù, di sol Gesuita, però è una cosa curiosa che ci tocca segnalare. E sol Gesuita a barra nei musei fino a su 1773 è che stanno la pressione di questa compagnia. Siamo in compagnia con Sascha Saez, il sindico dei musei. Grazie al sindico di questa ospitalità che ci ha dato. La prima domanda è un'opera che usa la presentazione di questa bella ida che è questo museo. Allora, innanzitutto, grazie a tutti i nostri che si è venuto a Sascha e che si fa il pregio in Meda. Il museo è una vita di Pitichetta, una vita di 1500 abitanti, situata in San Valle di Suciceri. È una vita di Pitichetta, ma una bella e una bella, una bella persona di Sascha di ogni anno è un'opera che si fa il pregio in Meda per la bella e per la bella di Pitichetta. Infatti, la cosa curiosa dei musei è che in Sardegna abbiamo un problema di spopolamento e invece i musei hanno questa controtendenza che invece sono aumentanti alle famiglie. Sì, è un caso che è un caso che è tutto che è un'opera di Suciceri. Il museo è una vita che non spopola, abbiamo una nuova famiglia che si fa bene se a vivere il museo e questo è un'opera. Il museo è una vita che si può raggiungere facilmente in ogni allogio, raggiungere facilmente l'Iglesias, facilmente il castello. Insomma, questo è un'opera di certo tranquillo in si specifico. Si trasferivo perché di gente del suo continente è in noi. Mentre si fanno bene sapere di noi e di Domunosa, mentre si fanno trasferire su noi in campagna, infatti teniamo su questa campagna se stu paghetti per uscire un po' po' lato rispetto a questo che fu da prima. Fortunatamente questa gente naturalmente porta da ricchezza bellezza pure a questa vita e questo è un pregio dei prodotti. Sascha, se per toccare l'attività amministrativa se si fa sia a livello urbanistico ma anche come progetti e l'amministrazione vostra se si fa traballare sui prodotti? No, ci sono sono inizi che si chiede la cultura dei musei che riguarda il traballo quindi la cultura del surrurale della campagna se si chiede in cominciare a sistemare la campagna potendo il sacco a tutte le aziende agricole che sono in merda i musei diati più di 40 aziende e più di 16.000 brevetti quindi insomma l'allevamento si è posto abbastanza bene e poi si è espandendo noi se si può in cominciare il traballo sull'espansione di questa zona industriale che è un'altra zona ben popolata di aziende che è proprio noi accanto di Abiseuso e poi si chiede di un animale perché da tutta sabita sistemando i ingressi sistemando di poter sempre per il beligio sistemando il subarco ed ho fatto un'area attrezzata per fare sport e torno a fare l'anfiteatro per il beligio come può essere più comodo possibili le esigenze sabita considerando che non è musese ma è un'area manifestazione culturali grazie al suo servizio che si dona a tese associazioni un'altra cosa che è bello che secondo me mi sono fare è un'area importante con i pp dopo scuola che si dona questa possibilità di dare famiglia di fare i corsi di chitarra di teatro e ho canno in cui inizia un bel corso di inglese a tutto spiepioso della scuola elementare in maniera gratuita e spiepioso poi ti cresci con due conoscenze per umana questa dimostrazione che una idapitica potete offrire me questa possibilità di fatti è un'opaca anticipata questa domanda mia che pertocca proprio i tese di facchini però sono giovani sono attività culturali indirizzare un'opaca giovani che bisogna i musei proprio in attività di formazione e offrire la possibilità di aggregazione sociale in questo senso assolutamente è un'altra cosa che secondo me non si deve sottolineare è che l'aggregazione è che si vende con i picciocchi con i picciocchi a 18 anni che solitamente inibiti spetticano con i picciocchi l'assos paguconsiderati con i picciocchi invece se noi siamo abbastanza coinvolgiti noi vogliamo fare un'anno un'esperienza che ci un buon paguetto di noi e poi vogliamo fare gittà nei altra vita conoscere un altro luogo accanto o atteso è importante che conoscere tutto l'isola e fare un'esperienza che poi usano giudice nel corso della vita pura insomma esperienze ricreative ma a stesso tempo culturale questo è una cosa dell'importo umano e giustamente come internavo tu hai l'importanza della lingua finché l'inglese siamo oramai in una società globalizzata non siamo sull'immagine come il pivuto di una volta ma se proprio siamo in sera della globalizzazione finché salbire la spettica sono connessi con il mondo e è giusto finché apporre la base in salbire al nostro può fare il cittadino dei subvenitori un'altra cosa abbiamo accennato a attività sproduttiva dei musei se solo attività agropastorale oppure i musei a livello di attività sproduttiva no abbiamo una zona industriale in noi che è una zona industriale artigianale ma è totalmente ibrea di azienda quindi ho completato tutto il lotto ho prodotto c'è chi è la gallina c'è chi fa il 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 c'è una fabbrica importante che è il pastificio che tiene di vincere i dipendenti c'è il il gommista insomma non fanno scelte attività di agricola però siamo in lupati in bid di produttività che è agricola questa bid è pittichetta ma è di mera campagna e campagna pianeggianti quindi attività principali è un po' forza di allevamento e ci c'è di aggiudare tutta questa azienda cresce così sviluppare migliorare sempre l'economia di gusti è stato sabato è tutto Sasha un'ultima pregunta tu come primo cittadino come sindaco come amministratore che si spera che si trasferiscono musei in maniera di aggiantare la sabita sempre stabile oppure la speranza è di dare i gresci naturalmente noi ci vogliamo tutta buona volontà di che servono in questa occasione e ci c'è di andare su meglio io mi parlo scusate se mi tento posso usare di me ti comprendo che si ha dovuto scarsiteto assolutamente andrà bene che insomma cosa bella è gruppo a fare le programmazioni in basarda e sono contento che i amministratori locali e i cittadini si prestano a valorare la limba nostra e grazie al sindaco dei musei tipo di mornare su pregusta idda i sabbi dei musei nasce si pensano a vincere del tempo dei nuracos però cosa ci sorranesce la città è cosa prorrecente dell'epoca dei romani è sicuro che in questa zona di Santu Lusciori ci fu appunto i romani su città un mera moneta vaso della raccotta e tante cose antiche addirittura di Eubonti ancora che è fatto con tante dei romanos in cui cresce un museo e vince saccando proprio la storia su conti dei baudi di vesme che ha riscritto su breve di villa di chiesa ha riscritto che in questo luogo fu a popolau ci vuntano due sforzi che varia su brumo e su zinco e traballando su brumo e su zinco un po' non hai a fare opera d'arte e questo pure su 1230 35 prima si era bidebrano poi dopo diventano musei musei un certo periodo non si ne si più nuda fin sacchi tanti faccia su 1650 giudice de castello arrico spagnolo giudice monserrato rossiglio chi fura amanti dessa gresia dublagri antas gresieda era scroveto che ci fura la gresia da in noi santo luciori e in pruso ci fura un'altra gresia noi e questo pubblico via fai bevi ed la mamma si era donato questo veudo si era regalato questo d'attento prima di morri vero sicuramente di studiare con i gresuiti e regalato appunto ai gresuiti però con questa promessa che dipende arrangere queste due screse della Standy Bay e qui si entrare su veudo non ha imposto di variante agricoltori che fu bella ricca e dipende finanziare la biblioteca universitaria che già fu nasce e tenia già decimila coppie del libro e quindi sta parlando appunto ai gesuiti e gesuiti fu in questo periodo espruso di cultura scelta puntare studia e quindi puntare riccando sida e poi tessagenti variano tammere donazioni eccetera e i musei ti imparavo ai agricoltori a innestare su pirastro in pira bella a innestare su solivastro e cominciamo a avere raccolta di olio di olio via non prezzo di olio estinco e quindi la vita cresce Luigi Casales un grande storico racconta che il museo in questo periodo aveva la sbacca più bella della zona di Sardegna questo è gesuiti che avevano in 1771 quando in tutta Europa avevano un po' che avevano il sforbo ai re espotentesi e quindi vunti di depo andai fuori del museo loro i musei ancora po' 10 15 anni da 60 età tra museo nai a Savini antideppi estet su velo del museo estet io donau a baronia di Bidegirdo Bidegirdo che ne gusta bit and appoglio finse la lingua cadenza del dialetto finse tradizioni che tenendo il gusto religiosa che voi dopo spiegare bene mille di mia che stanno la limba in la limba pure anche se si si ha gusti che no hai bide accanto difatti se gusta è una cosa curiosa che fenomeno linguistico penso non posso mi poter correggere nasalizzazione che è proprio a campi d'anno di meso che i musei conformano a tra la bid e su sul c'è è proprio diversa sì è diversa per esempio in la pia a vita ma strada non panni non non panni proprio oppure vino tanti però tanti piccola differenza che si distanziano anche questo dialetto poi dopo ho fatto parte della provincia dell'Eglesiasa un po' a sbintini anno addirittura in due periodi ho avuto la provincia di Torino mi documento su Pugliggio in certo luogo su provincia di Torino poi dopo finalmente diventavo provincia di Castello attualmente Carbonia Eglesiasa Solcesi Eglesi ente il suo comune di il suo ufficio del suo comune musei pure noi in suo centro noi accanto della Sagresia fura mi era strinto mi era fatto dell'ardi quindi si spostava negli anni 50 60 in San Rugamanna via Vittorio Emanuele poi dopo addirittura su 65 su sindico di Inzasa su Pinazei e compra un buon comune un bello terreno sul centro in centro infatti poi dopo il museo si spostava centrali e compro questa signora Amabiglia Vrogheri Antoni Cumanca che è il nonno di Maurizio il presidente del San Roloco e compro questo terreno e ha fatto un bello locale che attualmente è in ufficio comunale di rappresentato che Nino ha tornato a percorrere tutta questa storia di questa idda e due le pregunte Nino un po' su per tocco prima di tutto vabbè abbiamo Pornato che i musei avevano già antropizzati questa presenza già insedata in Noragesa ma vince in età punica romana e poi si va a narrare in sedate di meso attento un'importanza in questo periodo puro però la cosa curiosa come ha apponato proprio a sin cominci presentando questa idda dei musei è che il suo nome musei legito al suo contrario è IESUM ma è una leggenda metropolitana oppure è debito a presenza di Gesuitas allora questa storia dei musei è giusta e al contrario è scritto IESUM però non è nulla che vivi con questa presenza di Gesuitas poi come fu innendo prima il secondo è diversa storia si narra che musei ci furono già del 1230 quindi fossero possibili che Gesuitas è capitato di AIC o a musei a San Rovescio di IESUM una cosa curiosa e grazie a Nino per questa bella disamina tutto questa storia che ha contato sui musei e come dici altri aspetti di questa bella Ida siamo in compagnia di Bice Flore che è esperta dell'imbazarda in musei che ha descritto fin questa avversa in limba sarda prima pregunta Bice la importanza della lingua posa comunità dei musei si viene impreata sicuro la generazione sebrumana è impreata ma fin il giovane no se è indietro quanto riguarda la lingua poetica con modernizzazione scolarizzazione che è stato naturalmente un avvenimento bellissimo non ha fatto altro che bloccare questo che fu dal suo bagaglio culturale cosa nostra poi chi stia una sensato o prima magari fu da un paghetto così tenia da se si scarso se si grezzo poi ti chiesto in italiano di vadia di un bago brus signori era già andendo a città sociali bago brus alto del letteral infatti ti ho rimarcai quando ero esperta del lingua sarda non sei esperta del lingua sarda sei appassionata non sei literata però se appassioni ha portato alluidi certi alluisi e se curiositari ti portati informare a non perdere a stare attento su dei nuovi su dei primi su chi si progettare e quindi a me questo di perdere identitario che la lingua è identitario mi pare che mi pare stai male è una perdita proprio di un valore che non puoi comprare e chi ti adoro la lingua dove la lingua è identitario e che intendo di babbo tu non tu non è possibile perdere in tanti appoggiati a persone che scelte su di me naturalmente primo primo babbo mio non fu di noi fu di baricato quindi fu appassionato dell'igio poesia senza locutore però poca ridare di De nessuna parzialità di poca tanto si trattava di baturina in campitanese ecco e poi in noi in Bida c'è stato signorino che ammèda che furono coltori della lingua ha scritto musicale che mi sa non dire che mi era giovane che aveva imparato e si andò a cantare in me da Bida quindi è stata una cosa apprezzata poi Deo personalmente ha poco noto tramite universitario di Sanziano di Domonosa una lezione del professor Francesco Casula che ne può ridere un testimone e divulgatore della lingua sarda e quindi si ha proprio spinto che non da dei piosi verdi un'altra persona interessante è una professoressa di l'equa Chiara Gardia che ha scritto un bel libro ricoprendo dicioso contoso augurio su tutte queste belle cose con i tradizionali che non sono italiane ancora perché noi non è più non è raro il dialetto ma c'è che la lingua non è che è italiane non è raro beh sì questo è chiaro che non è una sostituzione linguistica però è un meccanismo di l'imba che abbiamo subito che influenze vincere la di l'imba però è una cosa bella che non deve essere impreato solo in l'ambito quotidiano italiano ma potrebbe essere impreato in l'ambito più elevato di cultura come interna o2 una letteratura poesia a questo proposito tu hai scritto che una poesia ho scritto ma ora non ho portato a mano e a memoria non mi ricordo penso che mi ricordo scelte che mi ha scritto così verso che narra babbo mio quando chiedi un'ora di melchior murene beh questo non devo leggere che sono verso bello il meta bellissimo così e babbo mio sono una rata musendo cantando tanto serrata il muro fatto a ferra a ferra e si so che lo vedi in terra l'hai serrato questo oro cioè è una cosa meravigliosa che applicata questo periodo tenere questo significato che siamo storici ora ci devo riempone altre cose che fanno parte della vita cioè questo denai stare di calmo senza far rancare in meta quindi niente senza offendere nessuno e dice in saida in ogre dei musei sono stato organizzato questo corso del sardo oppure una cosenza di sensibilità dopo la lingua sarda dunca io abbrichando fai di c'è si detto uno corso può promuovere la lingua sarda non foste in me che partecipavo io ci sono andata ripeto sempre di profana senza nessun autoritario bolognaio di rilievo però mi partecipavo e potesse essere riscoperto proprio questa lingua vera quindi con i termini antichi con i verbi appropriati e mi auguro che questo esperimento si ripetera si ripetera spesso in modo che arrivi a spetticolo e se non altro ma se vorre sempre nel contesto c'è una cosa che arrivi a scuola che adesso una cosa meravigliosa che si ripetano la lingua che usano nasce una cosa da ammettare in questa scuola se usano questo esempio insegnato con un progetto invece di adesso è bello proprio se usano strutturato come limba di insegnamento e la materia è la scienza la matematica la literatura la storia è tutto la materia fatta in limba di adesso è bello un'ultima pregunta bici tempo suga bene a te buru domanda se ti auguri si spera che tu adenese puoi questa comunità e fin se posa sopravvivenza di salimbasarda cosa si può fare secondo te dunque se attività naturalmente è buono studiare un'area buru a tavolino cioè come un progetto quindi un progetto culturale con persone che intende la pazienza di questo recupero e che non sia da bio come è una cosa antica che trova che non deve essere moderno la vita continua però la lingua è fatta può essere portata in antes di tempo di bovai poi in la lingua c'è tutto c'è sobranto c'è l'erghia c'è tutti i novitari che si toccano c'è la poesia non poteva fare manco questa lingua sarda e fuori con fuori si fa in libri non basta la città dovrà mandare a fuori e sono consaltro ma chi ha parla di su scritto è un patrimonio culturale non indifferente e ai giovani ecco devo sbolognare non tenere bregungia di chiusare su sardo certo chiusura di sardo in un contesto senza marginali a nessuno poi questa vita ripeto questa vita continua dopo si abbraccia tutto tutto e tutto senza marginali a nessuno e mi auguro che sia un progetto che si porta in nanti se proposto possibile grazie a bici che auguro bello che ha fatto e che si invita a valorare questa limba nostra fai dare su sardo che è bello a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.